Alvia i calici nel Borgo Antico. Tutti gli appuntamenti saranno all'insegna della valorizzazione dell'enologia, della solidarietà e delle bellezze architettoniche della terra del dolmen di Biceglie. È davvero tutto pronto per la decima edizione di Calici nel Borgo Antico, la Kermess 100% pugliese all'insegna della valorizzazione dell'enologia, della solidarietà e delle bellezze architettoniche della terra del sole. L'iniziativa ideata e promossa dall'Associazione Borgo Antico Biceglie è in programma Biceglie venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 novembre. I vicoli del centro storico della città del dolmen, come sempre popolati dai pregiati bianchi, rossi, rosati e dalle bollicine di decine di cantine pugliesi, si animeranno quest'anno anche di spettacolo e iniziative collaterali. Oltre alle visite guidate a cura della proloco, all'accesso notturno a musei e ai portoni privati più belli del Borgo Antico, per tutta la durata dell'evento sarà possibile intrattenersi, a costo zero nelle piazzette e ai piedi dei monumenti che ospiteranno decine di artisti pugliesi in trasferta. Tutta l'animazione musicale è promossa dai ristoratori e dai commercianti del centro storico, che in questo modo partecipano ad un'iniziativa di promozione culturale di beneficenza avvocata alla pluralità. A dimostrarlo anche il fatto che l'edizione 2016 di Calici nel Borgo Antico si concentrerà sulla solidarietà per le popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto, attraverso uno show cooking solidale a base di Amatriciana. Il ricavato delle degustazioni sarà interamente devoluto al recupero di un'opera pubblica del comune di Amatrice.